e niente purtroppo è finito troppo presto il sogno degli azzurrini al mondiale under 17 eliminati dal Brasile che accede ai quarti e incontrerà la Francia che ha dilaniato la Spagna per 6 a 1 questa gara è terminata 2 a 0 ci si aspettava più o meno una sconfitta la gara è terminata 2 a 0 con i gol di Patrick e Peklov Patrick ha segnato nel primo tempo dopo pochi minuti mi sembra al sesto minuto con una rasogliata sotto al set anche se voglio dire Marco Molla secondo me quello è il palo tuo bisognava avere un po' più di concentrazione e di attenzione magari lui si aspettava sicuramente il cross quello ha tirato però insomma un minimo più di reattività secondo me avrebbe dovuto esserci poi c'è stata l'occasione di Tonja se non sbaglio che è terminata di poco fuori un tiro mezzo giro c'è stato il colpo di testa di Ruggeri al 52esimo poi c'è stato il colpo di testa di Spalla di Gnotto mi sembra che è terminato sopra la traversa e niente tutte occasioni comunque poco poco pericolose e poi nel finale del primo tempo c'è stato il raddoppio di Pekloff appunto che entra sul versante dicevo un passaggio sul versante destro dell'area fa un tiro sì di biliardo di giustezza non irresistibile anche qui magari potevamo aspettarci da Marco Molla un intervento un po' più vabbè comunque non vogliamo colpevorizzare nessuno assolutamente si tratta di giovani quello che importa in questi frangenti non è tanto la vittoria in sé per sé a livello dei nazionali giovanili che per carità si arriva ben venga però quello che conta pare brutto a dirsi ma è tirare fuori talenti per il futuro talenti per la nazionale A perché la nazionale A comunque è una formazione che negli anni ci ha abituato bene comunque sul tetto del mondo in quattro situazioni anche a livello di europei comunque è una squadra nazionale che è un po' come la Germania a minimo in semifinale ci deve arrivare sempre mentre invece le recenti vicissitudini insomma ci hanno un po' no dei recenti con Mancini perché con Mancini adesso si sta ritornando insomma a essere quella nazionale temuta da tutti ma parlo di ventura ovviamente la situazione che preferiamo tutti quanti dimenticare degli elementi interessanti ci stanno li ha messi in evidenza questa nazionale li potete vedere anche ogni settimana nel campionato primavera per cui sicuramente il futuro è roseo per questa nazionale un saluto una buona giornata e sempre calcio paccio 2